Rosse cerca anche di dialogare con i compagni, un motto che non l'avevo mai visto così Jimenez dentro per Giaccherini, attenzione una gran palla a Giaccherini e la palla sul palo e poi alto, incredibile, incredibile errore di Giaccherini abbiamo rischiato tantissimo, la palla in profondità, attenzione ancora ovviamente vista tutti quello che è successo, l'errore incredibile la palla in profondità, il tocco, palo, si ritrova davanti la palla io non ho mai visto una cosa del genere la svirgola completamente, siamo stati graziati, ragazzi, siamo stati graziati e adesso allora ulteriormente, dobbiamo andare a cercare il raddoppio forse c'è il contatto di profondità, il tocco, palo, si ritrova davanti la palla io non ho mai visto una cosa del genere la svirgola completamente, siamo stati graziati, ragazzi, siamo stati graziati e adesso allora ulteriormente, dobbiamo andare a cercare il raddoppio forse c'è il...